il principio di sostituzione degli infiniti stavolta sapete che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di grande di x io per semplicità faccio tutto più infinito in maniera tale che non c'è tanto se ci sono questioni di segno si trova la regola di segno più per meno meno più diviso meno meno poi sapete anche che il limite per x che tende a x con 0 di f grande come prima su f piccolo uguale al limite per x che tende a x con 0 di g grande su g piccolo è uguale a 0 in questo caso non si parla di infinitesi di ordine superiore ma si parla di infiniti di ordine inferiore cioè vanno entrambi a infinito ma stavolta non è il numeratore che fa 0 più velocemente del denominatore è il numeratore che fa più infinito più lentamente del denominatore affinché il rapporto tende a 0 qual è? qui non ho problemi di dire nulla perché siccome le funzioni tendono a più infinito è chiaro che il denominatore x con 0 opportuno sono per esempio maggiore di u e quindi non ho bisogno di supporre che le funzioni siano diverse da 0 allora tesi la tesi è la stessa di prima cioè il limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f piccolo di x più f grande di x tratto g piccolo di x più g grande di x esattamente nello stesso senso di prima cioè questo limite esiste se solo se esiste questo sono uguale se non esiste uno dei due limiti non esiste neanche l'altro quindi non ve lo fate scrivere esiste cioè se no è una riga veramente sprecata basta che capiate che questo non significa che questi due limiti esistono il t e 2 possono anche non esistere chiaro? ok quindi quando in informatica usate o piccolo di n che cosa significa? che è una cosa che tende a 0 quando la dividete per n stavolta è un infinito o anche una costante per esempio una cosa che tende a una costante ma una cosa in ogni caso una azione o piccolo di n significa sempre che quando lo dividi per quello che ci sta dentro deve tende a 0 ecco o grande di n in genere si intende che tende a una costante diversa da 0 però qua ecco a seconda dei libri chi dice compreso da due costanti chi dice chi ci sta in informatica si usa o grande teta grande eccetera però la nazione più o piccolo è unico va bene facciamo un esempio in informatica avete questo problema allora supponete di avere un vettore un vettore di stringa lo volete mettere in ordine per esempio se un vettore di stringa lo volete mettere in ordine ma fa bene allora che per esempio a scopo didattico sicuramente avete visto qualche algoritmo per mettere in ordine tipicamente vedete il bubble sort emerge il bubble sort come funziona? allora diciamo parto dal primo confronto se diciamo il confronto mi dice che viene pieno di ordine alfabetico quello che stava dopo riscambio e continuo ad andare avanti fino alla poi e quindi sono sicuro che ho portato sopra l'elemento più piccolo perché li ho confrontati tutti diciamo ogni volta che io vado avanti confronto e se è minore lo porto su mettiamo che se ne interi va se è minore lo porto però quanti confronti devo fare in questo un po' a quanto? n-1 n-1 sistemato solo il primo poi prendo v di 2 e devo rifare la stessa storia e quindi c'è anche n-2 e poi n-3 in totale quanti confronti devo fare? la somma dei numeri interi da 1 fino a n-1 questo è il nome di confronti della stessa perché parti da n-1 poi c'è n-2 poi n-3 poi n-4 poi arrivi a 1 con dei confronti di ultimi due e poi è finito quanti confronti sono? sono n-4 meno n mezzi ora questo è o grande di n-4 cioè qua quello che conta la n non conta niente perché quando se n è grande se questi sono un milione questi sono mille miliardi questi sono un milione non è che decidi poi c'è il mezzi il mezzi però è una costante fissa che rimane sempre fissa quindi o grande di n-4 invece con merge sotto come funziona? con merge sotto con merge è un po' più difficile bisogna fare una struttura d'albero allora diciamo allora supponiamo che siano solo allora per prima cosa io li metto a cucchia e li metto in ordine a cucchia quindi li spongo faccio un confronto e qua li metto in ordine ottengo che ne so qua 7 o 3 qua li confronto e viene 6 o 5 con 6 o 5 quindi devo dire che questo viene in ordine alfabetico oppure in ordine l'altro ordine che stiamo utilizzando prima di questo qua mettiamo pure 4 o 3 1 o 2 poi che faccio? siccome questi già stanno in ordine prendo queste due pile e prendo dall'alto della pila quindi partendo dal più basso guardo quelli che stanno in cima alla pila e li confronto per esempio tra 1 e 4 diciamo che è più basso 1 poi rimane 2 e 4 diciamo che è più basso 4 poi rimane 2 e 3 diciamo che è più basso 3 e poi ci viene ottengo fatto un merge no? confrontando ogni volta in cima la pila e diciamo che da quest'altra parte viene qualcosa del tipo 6 6 5 a questo punto devo fare un ultimo merge tra queste due pile lo faccio qua sotto il merge allora ogni volta confronto siccome sono già in ordine sono stati già messi in ordine confronto quelli in cima alla pila quindi che ne so viene 6 poi viene 1 poi viene 4 poi viene 7 poi viene 3 poi viene 5 poi viene 2 e poi viene 3 ok? allora vuol dire che quello in ordine alfabetico mettiamo se era uno stringhe il primo in ordine alfabetico era quello che stava al posto 6 poi c'era v di 1 poi v di 4 eccetera eccetera quanti confronti ho fatto? allora se guardate per ordinare per passare il primo livello ne ho fatti 4 poi per passare il secondo livello quanti ne ho fatti? 2 allora però l'ho fatti 2 volte ho dovuto confrontare 3 volte per l'ultima di quindi qua ne ho fatti 2 1 e 1 1 e 1 qua ne ho fatti 3 e 3 e qua quando ne ho fatti? 7 quindi ne ho fatti 4 per 1 2 per 3 1 per 6 quindi ne ho fatti 7 quanto fa? 7 allora supponiamo allora quale argomento è migliore? quello di prima o questo qua? il primo passato questo questo è di parecchio allora è di parecchio quando ha N grande allora supponiamo che invece di 8 ce l'avevo 64 allora beh innanzitutto qui abbiamo fatto 17 confronti qua quando ne abbiamo fatti? 8 per 7 fratto 2 sono 28 perché N era 8 ah allora va bene è chiaro che per N bassi può convenire quindi il bubble sort per N molto bassi può convenire perché è una struttura più semplice però già vedete che io mi sono messo chiaramente in un caso ottimale per questo perché questo è ottimale quando il numero deve veramente confrontare del tipo dual line quindi quando è una potenza di 2 qua i confronti sono 28 qua i confronti sono 17 beh però insomma 28 e 17 non sono proprio due numeri vicini vicini allora supponiamo che N sia 64 quindi 64 non è una pila enorme è un vettore non eccezionalmente grande è chiaro? nel caso vediamo quanti confronti devo fare per il fatto so allora numero confronti allora qua entriamo bubble sort map sort allora il caso del bubble sort qua di su 64 per 63 diviso 2 quanto fa? 2016 2016 2016 no 2016 no 2016 sì 16 perché che dovete fare? dovete fare 32 per 63 allora fanno 32 per 64 la 2048 meno 32 per 26 ah si stava svegliando un po' allora andiamo a fare questo quanti sono? qua uno potrebbe dire un po' più difficile ma questo è un tabellone no? un tabellone di calcio 64 che abbiamo all'inizio di confronti cosa sono? 32 32 quindi abbiamo i 32 eseri di finale per 1 che fa 32 poi i 16 eseri di finale abbiamo da fare i merci di pire da 2 quindi i confronti sono 3 questa questa successione qua che cos'è? 1 3 7 no 1 3 7 è 2 alla n meno 1 perché questo se ci metti aggiungi 1 è 2 4 8 ok? è chiaro? quindi 16 per 3 fa 48 poi 8 per 7 fa 56 poi 4 per 15 15 15 il doppio di 8 è 16 meno 1 15 60 2 per 31 62 1 per 63 63 facciamola su un po' non muo meglio, 6 volte meno 3 l'ha il grosso del cos, l'ha il confronto è vero che, ma io col compito non lo vedo, è velocissimo 2.000 per azione, se ci mette un milionesimo di secondo per il caso che diciamo, adesso adesso, oggi faccio compito non per voi, per quell'età oggi faccio compito e ammettiamo che io dovevo mettere il 64 compiti col bubble sort non se ne parla proprio allora, perchè li devi mettere in ordine? in genero si mette in ordine, ecco, volendo proprio valutare alla praga si potrebbe mettere in ordine di matricola ma insomma, io mi trovo molto più facile, diciamo, mi viene molto più facile mettere in ordine di cognome quindi, la gente si scrive il cognome normalmente, allora prendo per esempio, io dico sempre ai ragazzi, scrivi il cognome sulla facciata principale, non di dietro perchè? se no, devo girare per fare il confronto se no, devo girare per fare il confronto e per... tempo ok? allora, come si fa questo confronto? allora, ci sono due possibilità di fare il... no, metà a metà, io proprio faccio vari mucchietti mucchietti ognuno dai 5-6 allora, questi mucchietti mentre li prendo in mano a occhio già li... li confronto e li metto nell'ordine giusto e poi faccio le pile da... pochi elementi, faccio immergio, faccio immergio, faccio immergio e in... tre minuti, se fa male ho fatto immergio intimo anche se erano 60 ma questa abitudine adesso adesso non ci sarebbe tanto bisogno perchè magari oggi se vengono a fare il compito 30 persone sono 10 di analisi 1, 10 di analisi 2, 10 di analisi 3 e si fa l'occhio però, quando... adesso è rimasto da fare soltanto siccome eh... comunque voi siete una sessantina magari il primo appello di... gennaio venite tutti quanti e quindi ci saranno 60 combinati in una metà quindi in quel caso si applica però... diciamo ho avuto anche anni in cui c'erano 250 studenti e avevo scritti da 150 persone ma... invece di 64 metteteci 256 e vedete com'è questo... ogni volta che raddoppia questo quadruplica quindi quando vai al 256 ma anche al 128 questi sottomilano i confronti questo invece aumenta come... ecco... come aumenta questo? allora guardate qua potete vedere che a ogni passaggio al massimo 2n veniva... no... veniva... se vedete un'approssimazione sempre migliore di n 2, 4, 8, 6 no... devi guardare... n era 64 qua viene un po' meno di n perché è l'1 che ti fa risparmiare se c'avevi 2 veniva proprio 64 se c'avevi 4 veniva proprio 64 se c'avevi 8 veniva proprio 64 quindi... quindi... tutti questi sono tutti meno di n ok? quanti sono? i livelli i livelli sono... 3... 6 ma sai chi è? e logaritmo in base 2 viene quindi questo questo va e questo va come n log n se ci vuoi mettere in base 2 ma se ci metti un'altra base non si metti in base 2 perché se ci metti un'altra base c'è pure solo una costante e negli ocrandi la costante non si guarda la costante non si guarda perché? perché se lo fai su un computer c'è una velocità i rapporti visti non si guarda no? tu devi vedere come si sviluppa rispetto a n ok? e la differenza è tanta la differenza è tanta questo è... la differenza è tanta quando quando n è grande ok? per... per... diciamo... se è il caso di farlo la dico... la acceno soltanto... allora... vediamo un po' adesso... devi fare questa moltiplicazione e quanto? 1972 per... 2688 la faccio in... con i numeri in base 10 la faccio con i numeri in base 10 allora... io voglio sapere... quando vado a svolgere questa moltiplicazione? diciamo... chi è n e... qual è... diciamo... l'andamento dell'argomento? eh... cioè... è chiaro che io posso fare una moltiplicazione quante? in questo caso voi chi direste che è n? no... 4 è il numero delle cifre cioè... voi dovete fare una moltiplicazione di due numeri di n cifre decimali cada uno se lo fate su due compiuti di n bit o di n byte tanto... o su n bit o n byte il rapporto è fisso è 8 poi vedremo che... chiaramente c'è una differenza poi se il sistema è a 32 bit o 64 bit potete fare anche moltiplicazioni da n parole però n indica la lunghezza del fattore diciamo... dei due fattori come numero di parole supponiamo per semplicità che i due fattori abbiano la stessa lunghezza adesso... se la svolgete con l'algoritmo classico quello delle elementari che... quante operazioni fai? 10 più o meno o grande... di n quadro non so proprio 16 perchè qua per esempio ti vengono da 5 quindi... 5 per 4 è 10 ma insomma viene n per n più 1 se c'è un riporto perchè tu devi fare n moltiplicazioni di singole cifre poi... poi devi fare n più 1 insomma... viene o grande di n quadro si capisce che viene o grande di n quadro c'è un modo più rapido per fare questa moltiplicazione? no vabbè a parte piccoli trucchi per esempio qua è chiaro che quando vado a fare la moltiplicazione alla quarta riga non la riscrivo perchè qua la terza la ricopio non la rifaccio però a meno di questo quest'algoritmo è dell'ordine diciamo con n va come n quadro se adesso vi faccio una moltiplicazione di due numeri da mille cifre decimali a cada uno vuoi fare un milione di operazioni oh mi viene in mente il nome insomma perchè c'è uno... allora il problema era questo che fino al 1960 si riteneva che questo fosse l'algoritmo più veloce a disposizione oggi non si pensa più così oggi in realtà gli algoritmi più veloci disponibili per fare una moltiplicazione di due numeri di n parole o di n byte richiedono l'uso della FFT però fast Fourier transform e quelli vanno come n log n però stavolta conto la costante davanti c'è una costante talmente grande davanti per mettere in piedi tutto il macchinario che non ti conviene se questi numeri non sono lunghi milioni insomma uno si capisce pure benissimo un ragazzino della quarta elementare questa la sa fare mentre la FFT non sa neanche dove sta di cazzo però se tu dovessi fare numeri da un miliardo di parole se lo fai con la FFT viene più veloce in realtà ci sono... ah, mi è venuto in medio il nome ci sono dei... un algoritmo più veloce di questo si può identificare facilmente ok? porta il nome del tizio che l'ha scoperto che si chiama Karatsuba però diciamo in realtà almeno per quello che ne so io la cosa è andata così c'è stato un seminario nel 1960 dove Kolmogorov ha detto vabbè il modo migliore per fare... cioè non è dimostrato però insomma ci ho lavorato un po' insomma tuttora il modo migliore per... diciamo... fare la moltiplicazione di due numeri di n cifre l'algoritmo migliore sarà dell'ordine di n quadro almeno finora non è stato... diciamo, trovato nulla di meglio allora tra i... quelli che stavano a sentire il seminario c'era un ragazzo... uno studente insomma probabilmente laureato non lo so che c'era allora Karatsuba comunque c'era Karatsuba che va a casa si va a due punti e torna una settimana dopo dice veramente c'è un modo più veloce di farlo e quella era Kolmogorov e non era l'ultimo arrivato comunque Kolmogorov è molto impressionato da questa cosa e... devi scrivere il lavoro devi scrivere il lavoro e Karatsuba non lo scrive allora ad un certo punto ha detto Hoffman scrivi tu il lavoro se no Karatsuba non lo scriverà mai insomma... per quello che ne so io la cosa è andata così quindi... il lavoro è... e l'algoritmo porta il nome all'algoritmo di Karatsuba l'algoritmo si può spiegare facilmente in realtà prima di arrivare all'algoritmo supponete di dover fare un quadrato supponete di dover fare un quadrato quante moltiplicazioni fa? 3... no no 3 fate A4 più B4 più 2AB non bisognavi fare tutte e quattro moltiplicazioni ah... perché sapete che due moltiplicazioni vengono uguali allora qui... il... eh... qua tu in realtà non è altro che 29% diciamo... eh... tu non stai facendo altro che AX più B per CX più B allora A è uguale a 29 B è uguale a 72 C è uguale a 56 B è uguale a 81 e X è uguale a 5 siete d'accordo? allora il concetto è dice io per fare questo prodotto ho bisogno diciamo i prodotti del tipo per X non li parlo perché quelli sono degli shift anche... quindi quando vado a fare questo prodotto cosa mi viene? mi viene A per C per X qua più BC più AD X più BD quindi quindi per fare questo prodotto io devo fare quattro moltiplicazioni A per C B per C A per D B per D poi qua faccio una somma poi faccio gli opportuni shift perché questo è per cento significa spostare di due in decimale quindi spostare di due posti questo è per 10.000 significa spostare di quattro mostri e poi faccio la somma allora Karazzuba ha trovato in modo di fare la stessa la stessa diciamo lo stesso prodotto aumentando il numero delle addizioni ma diminuendo il numero delle moltiplicazioni che è più diciamo quando vuoi il numero è lungo è esattamente molto più più allora lui cosa fa? fa queste moltiplicazioni qui quindi fa A vediamo un po' più D no A più C A più B per C più D e poi fa A meno B sì, ci lo sai per C meno B allora guardate un po' cosa vi viene? no scusate questo non lo fa fa questa moltiplicazione può fare AC e BD fa queste tre moltiplicazioni qui vi viene AC più BD poi vi viene più AD più BC C allora guardate questo già ce l'avete questo già ce l'avete se lo andate a sottrarre da questo vi viene esattamente il fattore diciamo il numero che dovete mettere qua quindi questo lo chiamate A grande questo lo chiamate A grande questo lo chiamate C grande questo lo chiamate B allora qua dovete fare A grande X quadro più A più C meno B per X il contrario B meno A meno C B meno A meno C per X più C C quindi come vedete adesso una volta quindi dovete fare due addizioni qua poi dovete fare tre moltiplicazioni e poi dovete fare altre due addizioni qua più le addizioni dopo di C quindi qua di addizioni ce ne avrete una sola qua di addizioni diventate 4 però in compenso le moltiplicazioni sono scese da 4 a 3 ok? e questo si chiama l'algoritmo di Karatsuba qual'è la complessità con l'algoritmo di Karatsuba? l'algoritmo di Karatsuba è O grande di N elevato a logaritmo in base 2 di 3 quindi logaritmo di 3 sul logaritmo 2 che è circa O grande di N alla 1.19 ok? beh, questo esponente non è N ma si è di me cioè no, si è diciamo la differenza rispetto a 1 si è quasi dimezzata passata da 2 a 1.58 quindi come vedete diciamo alla fine queste cose hanno applicazioni pure molto pratiche allora i computer che che algoritmo usano? usano quelli di Karatsuba non ci pensano proprio i computer usano l'algoritmo normale perchè la circuiteria è fatta in modo da usare l'algoritmo normale però se avete a che fare con interi lunghi quanto lunghi? basta dell'ordine di qualche migliaio di bit per esempio se avete interi lunghi di 6000 bit allora conviene usare Karatsuba la stessa classe in Java implementata su diciamo un Java che gira su Windows nella classe Big Integer che usa gli interi lunghi quindi non usa l'algoritmo di Karatsuba nella classe Big Integer che usa Java che si usa su Android diciamo usa l'algoritmo di Karatsuba ma in realtà forse so pure perchè poi abbiamo trovato pure in rete diciamo le due due listati e c'era uno che insomma proprio semplicemente quello sotto Windows che era di Oracle ma non so comunque non l'hanno aggiornato gli hanno pure detto però insomma la stessa moltiplicazione in poche parole se l'intero è molto lungo se la fate su Google Nexus diciamo che viene meno ci mette meno tempo che se la fate su un computer sotto Windows se l'intero è abbastanza lungo è così vediamo ok allora tutto questo è partito dagli o piccoli e gli o grandi quindi vedete come questa questa notazione introdotta da Landau se non sia tuttora molto importante ed è stata più importante ripeto più per informatica che per la matematica ok ok naturalmente quello che ho detto io è l'idea dell'algoritmo di Garazuba l'algoritmo di Garazuba poi si dovrebbe appunto dipanare ad albero cioè è un algoritmo ricorsivo tu per fare un prodotto di due numeri che sono lunghi n parole fai tre prodotti di numeri che sono lunghi la metà poi ricorsivamente fai prodotti di due numeri fai prodotti di due numeri usi ancora l'algoritmo di Garazuba fino a quando le parole non sono abbastanza diciamo il numero di parole non è abbastanza piccolo che non ti conviene più quello di tutti i prodotti li fai a mano cioè no a mano li fai con l'algoritmo classico ok allora finita questa lunga parentesi che ci abbiamo messo una mezzoletta anche 40 minuti torniamo a noi allora dopo i limiti di funzione bisogna fare le funzioni continue che cos'è una funzione continua? non è difficile la definizione allora supponiamo di avere f da e a valori in r e contenuti in r f si dice continua in x con 0 appartenenti a d quindi se solo se per definizione per ogni x la maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno con 0 minore di delta allora f di x meno f di x con 0 è minore di x allora questa definizione assomiglia assomiglia paurosamente a quella di lì ma non è la stessa cosa in realtà è molto parente a quella lì ma non è esattamente la stessa cosa allora sottolineo due cose la continuità si valuta nei punti del dominio se 3 non sta nel dominio è utile di dire se la funzione è continua in 3 la continuità si valuta solo nei punti del dominio è richiesta è richiesta di valutarsi può andare a definire solo nei punti del dominio se allora io per esempio 3 non è un punto del dominio di e non è un punto di e ma un punto di accumulazione per e posso fare il limite per x che tende a 3? si posso vedere se f è continua in 3? no è chiaro questo discorso la continuità si fa nei punti del dominio se x con 0 nel dominio non ci sta è inutile dire si può fare il limite ma non vedere se è continua quindi prima osservazione la continuità di f si può controllare diciamo così tra virgolette controllare cioè si può verificare chiamatelo meglio verificare A solo nei punti di e nel dominio se il punto non lo stai niente non c'è senso questa è una definizione quindi non c'è niente da capire 2 però un dominio può avere dei punti di accumulazione ma anche dei punti isolati allora se x con 0 è un punto isolato di E allora F è condiviso quindi nei punti isolati tutte le funzioni sono condivide per quale motivo è banale esiste un delta maggiore di 0 tale che la sfera di 100x con 0 e il raggio delta intersecato E è uguale a solo x con 0 quindi se io dico x meno x con 0 minore di delta vuol dire che x è uguale a x con 0 e allora f di x meno f di x con 0 è uguale a f di x con 0 meno f di x con 0 vale 0 ed è sicuramente minore di qualunque y cioè in un punto isolato se ci prende un intorno opportuno ci rimane solo lui allora prendete un x in quell'intorno che significa che è uguale a x con 0 ma allora se è uguale a x con 0 poi mi viene f di x con 0 ma f di x con 0 fa 0 è banale diciamo lo dimostrate però lo capite lo riscrivete lo ricapite quindi fino a che non valerai? x con 0 se nei punti isolati tutte le funzioni sono punti se x con 0 è un punto isolato ho sfruttato qualche ipotesi su f? no non è delta 0 minore di 0 0 che è minore di ε cioè ε non l'ho neanche fissato perché 0 è minore di qualunque numero positivo la scrittura completa sarebbe sia ε maggiore di 0 siccome io so che esiste un delta dove qua ci rimane solo x con 0 e qua qua mi viene 0 e 0 va bene sempre 3 se x con 0 appartiene ad e e x con 0 è di accumulazione per e allora allora f è continua in x con 0 sesso così il limite che x con 0 di f di x e x con 0 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 fd x con 0 Allora, cosa c'è nella definizione di limite di diverso? C'è la x appartenente a te questo sta anche qua se volete scrivetelo perché la funzione è definita in E c'è la x diverso da x con 0 ma se ci metto x uguale a x con 0 cambia qualcosa qua mi viene 0, 0 è minore quindi o ce lo metto o ce lo tol è la stessa cosa quindi confrontando le due definizioni si vede che la definizione di continuità con 0 equivale al fatto che il limite della funzione sia uguale a quello della funzione quindi per stare attenti non posso dire in generale che il limite della funzione è uguale a quello della funzione del punto perché nel punto posso non avere il valore della funzione caso in cui x con 0 non appartiene a te mentre magari il limite ce lo posso fare perché era un punto di accumulato oppure posso avere il viceversa nel punto posso avere il valore della funzione f di x con 0 ma non c'è il limite perché il punto era isolato e in quel caso se vado ad applicare la definizione tutte le funzioni sono comuni se invece ho sia il valore della funzione del punto sia il valore del limite perché il punto non solo è di accumulazione per e allora la funzione risulta condivina se è solo 6 vale il limite della funzione uguale a f di x è chiaro? ok vediamo se ora ok possiamo abbiamo ancora 4 minuti quindi dalla pausa posso dire a questo punto se io voglio fare per esempio facciamo questo teorema qui lo scrivo grazie a tutti allora abbiamo due funzioni sullo stesso dominto poi supponiamo che x con 0 sia un punto D e supponiamo che f e g siano entrambe continue x con 0 allora le funzioni le funzioni poi mettiamoci pure la costante sia lambda una costante f più g f più g f meno g f per g sono tutte con g se no g x con 0 è diverso dal 0 allora anche la funzione f su g è continua secondo me quanto ci vuole di un sasso tereo? secondo me 5 secondi allora allora x con 0 è un punto di e abbiamo due possibilità o è isolato si è isolato tutte le funzioni sono continui questa però attenzione perchè ci ho dovuto mettere se g di x con 0 è diverso dal 0? no no, se no la funzione non esiste in x con 0 come faccio a dividere per 0? nel momento in cui posso dividere per g di x con 0 la funzione esiste anzi per trovare la permanenza del segno g di x siccome vabbè, poi lo vediamo qua se è isolato la funzione esiste nel punto di sconzione e tutte le funzioni sono continue se invece è di accumulazione come si faceva a verificare che una funzione fosse continua? bisognava fare il limite e verificare che era uguale la valore della funzione del punto allora fare il limite lambda f lambda si porta fuori viene lambda volta il limite di f ma è il limite di f uguale a f di x con 0 per x con 0 ne faccio uno per esempio facciamo il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x allora io dico che questo è uguale al limite di f di x con 0 su g di x con 0 su g di x con 0 per la precisione il ragionamento completo dovrebbe dire questo è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f di x fra il limite per x che tende a x con 0 di g di x che sappiamo essere diverso da 0 nel senso che siccome questo limite è diverso da 0 la funzione g in un intorno del punto essendo continua diciamo siccome questo limite è diverso da 0 la funzione g in un intorno del punto avrà valori diversi da 0 vedremo la permanenza del segno quindi il rapporto è definito si può andare a cercare di calcolare questo limite e questo limite è uguale al limite di rapporto ma siccome ha le tue funzioni di secondo questo fa f di x con 0 fratto g di x con 0 e così si vanno tutti quanti gli altri gli altri sono tutti più semplici lambda si porta fuori il limite della somma è la somma dei limiti il limite del prodotto è il prodotto dei limiti il limite della differenza è la differenza dei limiti quindi quindi sostanzialmente è più o meno la stessa cosa del limite ma con quelle piccole differenze che abbiamo detto prima ripeto le differenze sono nei punti che non sono di e perchè semplicemente la la funzione non è definita e nei punti che sono di e ma sono isolati perchè la la funzione è definita ma non ci posso fare il limite e tutte le funzioni sono invece continuate chiaro? pausa grazie 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 grazie